Mi piacerebbe andare sulla luna. Mi chiamo Giulia e ho otto anni. Mi chiamo Cristiano e ho nove anni. Io mi chiamo Veronica e ho otto anni. Mi chiamo Agatha e ho sei anni. Io sono Carola e ho otto anni. Mi chiamo Alessia e ho dieci anni. Ludovica, ho sette anni e mezzo. Un femmina. Un softball, che è il baseball femminile. Casa Link. Allora, le donne non possono fare i calciatori perché non possono andare in tv. Lavare il bate. Io vicino a casa mia ho un palazzo che sta costruendo e sento... Gli operai. I calabinieri. Da grande sogno di fare la biologa marina. Perché a me piacciono molto gli animali del mare. La parrucchiera. Vuoi fare la giocatrice di rugby? Perché alcune volte quando mi arrabbio mi viene da placare qualcuno. La veterinaria. Perché mi piacciono gli animali e mi piace curare. L'inventore. Perché sono brava a diventare. Apicoltore. Non mi piacciono le api ma mi piace il miele. Io da grande vorrei viaggiare per le stelle. Deve studiare delle frasi per dire a quelli che sono i padroni degli animali. Capire come si fanno i meccanismi. Sapere a placare e anche di passare indietro. Serve una scuola. Lavorare è difficile. Perché non posso? Mi arrabbierei tanto. Non è giusto. Tu non lo sai. Se non sei capace bisogna studiare. Ma lo si può anche fare se sei una donna. Sì, perché da come ho sempre saputo dicono che le donne sono più intelligenti dei maschi. Sì, lo possono fare sempre se lo vogliono. Perché i bambini e le bambine alla fine sono uguali. Ce la posso fare? Io ce la posso fare. Ce la posso fare? Io ce la posso fare. Ce la posso fare? Ce la posso fare! Io ce la posso fare. Tanti auguri alle donne! Buono! Buono questo odore! Buono questo odore!